Ciao bella gente, benvenuti in mio canale. Io sono Amale e oggi voglio parlarvi della parte 2 della cellulite. Questo video sarà dedicato alla retenzione idrica e alla buccia d'arancia. Quindi la retenzione idrica sono il malfunzionamento di microcircolazione del nostro organismo che nostra pelle, il nostro corpo, accumula dei liquidi. È dovuto a vari motivi come la cellulite, a vario rumonale, disposizione naturale, malfunzionamento proprio di questo sistema. Quindi come combatterlo? Tanti medici consigliano di bere tanta acqua e mangiare dei cibi che contengono dei liquidi, ad esempio come l'anguria, gli asparagi, i cetrioli, l'ananas e la cipolla. E soprattutto fare anche delle attività fisica, come ho fatto vedere anche, come ho detto anche nell'altro video. Allora, per attivarlo ci sono dei trattamenti mirati, come ho fatto vedere anche nell'altro video. Il pettine, questo qua, lo passate sulla pelle e praticamente brucia e attiva questa microcircolazione. Oppure usare dei trattamenti, nel mercato ci sono diversi. Io ho trovato un piccolo rimedio che funziona perché purtroppo soffro anche delle retenzioni idrica. Il mio rimedio facile e veloce economico è quello del rosmarino. Il rosmarino attiva la microcircolazione. Io ho trovato del rosmarino qua nel campo dietro e dunque l'ho messo dentro l'aceto di mela. Guarda, lo lasciate dentro una bottiglietta dall'ombra, ogni giorno dovete girare la bottiglia e lasciarla circa un mesetto. Il risultato è questo qua. Io lo uso dopo la doccia, lo applico sulla pelle, è il gioco che hai fatto. Quindi poca fatica, il risultato è assicurato. Invece per la buccia d'arancia, la buccia d'arancia è una delle cause della cellulite. Dunque, come lo riconoscete, basta che passate le mani sulle gambe, sui glutei, se sentite la pelle che sia ruvida, quella è buccia d'arancia. Per toglierla è facile, secondo me, è molto più facile toglierla buccia d'arancia che è la cellulite. I rimedi sono semplici. Io nel corso degli anni ho trovato dei rimedi che sono efficaci e funzionano veramente. Sono i scrub per il corpo e i fanghi applicati sul corpo. Dunque, i scrub io ho questo qua, questa marca qua che l'avevo comprata dall'Italia, mi è rimasta solamente questa bustina, oppure potete tranquillamente utilizzare i prodotti che avete a casa, come il fondo di caffè, è sale grosso e qualche goccia di olio. Può essere l'olio di mandorle oppure l'olio di extravergine. Lo applicate sul corpo, lo chiudete con della pellicola, lo lasciate agire almeno per due ore. Quando vi lavate sentite la pelle perfetta, liscia, morbida, buccia d'arancia sparita. Un altro prodotto che io utilizzo, che funziona perfettamente, è questa marca qua. Questo qua, non so se lo vedete bene. Si chiama Organic Shop, ovviamente l'ho comprato da Druni. Questo qua è a base di oliva e argilla. Io vi consiglio quello di rosmarino, ovviamente io l'ho provato tutti. Quello di rosmarino vi dà un risultato meraviglioso, vi lascia un profumo fantastico sulla pelle. Fate la doccia, passate lo scrub su tutto il corpo. Uscite, vi asciugate, la pelle è perfetta. Funziona perfettamente bene, io lo consiglio. Un altro trattamento che funziona perfettamente contro il bucce d'arancia, un trattamento che si usa tantissimo in Marocco e nella quotidianità, nella normalità marocchina, che una volta o due volte alla settimana vanno al hammam, che è praticamente questi sale, dove ci sono dei vapori abbastanza caldi, che aiutano a ammorbidire la pelle e quindi la preparano per lo scrub. Quindi usano questo sapone nero, qua, che è un sapone liquido basico e usano un specie di guanto, o proprio un guanto ruvido, che passano il sapore, lo sciacquano e poi passano con questo guanto su tutto il corpo, sia viso, praticamente su tutto il corpo, togli via la pelle morta. Vi dico, io da quando ero piccola era la normalità, infatti io qua l'uso almeno una volta al settimana, una volta ogni 15 giorni, quando ho voglia. Serve la costanza, perché se ad esempio fate passare un mese dall'ultima volta che avete fatto scrub, farete tantissima fatica per far uscire proprio la pelle morta, perché tra l'altro la doccia deve essere molto calda, io vi consiglio dopo un bagno. Rimedi lo posso condividere con voi su Facebook o su Instagram, scrivendo proprio la ricetta con delle varie ingredienti e condividerlo con voi. Mi raccomando, seguitemi sul mio canale, seguitemi su Facebook e Instagram, mettete mi piace, seguitemi sul mio canale. Vi ringrazio, spero che sia stata utile, non tanto noiosa. Ragazze, io l'unica cosa che voglio dirvi dopo esperienza di tantissimi anni con la cellulite, voce d'arancia, ritenzione idrica, la prima volta, se credo avevo 15 anni, quello che ho capito, quello che ho imparato, di accettare se stessi per quello che siamo, amarci per quello che siamo, cercare di migliorare quello che possiamo, non paragonarci assolutamente a nessuno, perché noi siamo perfette per quello che siamo. Per qualsiasi richiesta, qualsiasi informazione, qualsiasi domanda, per favore iscrivetemi e per qualsiasi consiglio anche, lo accetto volentieri. Ok, grazie mille e buona giornata a tutti. Ciao!